Buongiorno, io sono Black come voi sapete e oggi qua, oggi qua certo, oggi sono tornato per farvi vedere come, oh là che bello questo, come trovare i cuori da Edra in Skyrim. Un tizio mi ha chiesto, ora dove cazzo ho trovato tutti quelli Tedra, adesso mi servono, fammi vedere, ok, allora, sono vari modi ovviamente per trovarlo, questo qua è il modo più semplice che è, cioè si, tra virgolette, che è nel senso tutti semplici, però vabbè, questo qua è meno faticoso, oh Cristo, ma che cazzo, ok, quella lì è posseduta. Allora, per il tutto dobbiamo entrare nell'Accademia di Winterhold, meno credo che si chiama così la città, sì, e, un attimo, eh, corriamo, runner, runner, sì, Accademia di Winterhold, no, aspetta, bene, bene. E il filtro si subito a sinistra. La sala è quella delle conquiste, se non sbaglio, sì, sala della conquista. Ok, spettiamo un attimo il caricamento. Ma che bello, tutto nero, sì, neanche un po' di fumo, no, cioè proprio, ci voglio mai. E dobbiamo cercare un tizio di non mentire. Cioè, si trova qua dentro, magari di giorno va a fare qualche passeggiata, secondo me, anche lui c'ha una vita. E per cui magari esce fuori, eccolo, anzi, no, eccolo, da noi cimane, eh, bugle e cose l'oste. Vabbè, lascia che ti dà un consiglio. Vuoi lavorare qualcosa che non so con il titino? Non dirò a nessuno. Vabbè, entro, dovete parlarci. Cosa non hai permesso di far qua? Sì, ok, ciao. Ok. Possiamo fare affari? Spero che ti abbia qualche moneta. E tu cosa hai? Ok, dobbiamo un'occhiata. E qua vi venderà delle cose, tra virgolette, proibite. Vabbè, poi andate su ingredienti e avrà due qualità edra. Eccoli qua. Eh, costeranno, all'inizio costeranno molto, perché comunque anch'io ce l'ho a basso, la, l'oratoria, e per cui, cioè, non posso prendermi che mi li vende a un euro. E comunque più o meno costeranno ai 500 e ai 1000, dipende da quanto ci avete l'oratoria. Ce l'ho bassissima, tipo neanche al 20, ce l'ho. E ce ne avete due. E lì i cuori si rigenerano, cioè, non, non, cioè. Non è che si rigenerano subito. Non so, tipo, minimo, minimo dopo 48 ore. Poi, boh. Certe volte si rigenerano dopo di più o di meno. Vabbè, lasciate passare comunque il tempo e vedete. Casomai, intanto che, intanto, ovviamente, non è che io tutto il tempo state lì così. Sorry, fate così. Il secondo modo, intanto che si aspetta, si può andare dai compagni. I compagni sono qua. Avete visto? Non ho la mappa. Cioè, vabbè, sapete dove sono. Sono subito qua, non ho una wind. Ma... La prima città che non mi dico... Ui, boh. Ho qualcosa con l'ho v2. Vabbè, a casa. Aspetta, ve lo dico subito. Perché, subito. Già, roschi! L. Ah, ah, ah. Winterunk. Whiteunk. Cosa è successo? Oh, Dio, si panno la pugni. Stramati, figlio. Niente da fare, questi qua. Vabbè. Appena di qua dovete andare negli alloggi. Di... Di... Dei compagni qua, di questi tizi qua. E sono qua. Venite alla vostra destra, qui. Residenza di Javarovski. Facciamo ancora il lunghissimo caricamento, molto... Oh, Cristo santo! Beh, attento. Avete visto l'acqua? Lì è un cosciotto di capra. Non è mica un cuore di Deira. Come pensavo? Avete visto il rosso, voi? E qua, dove sono questi due coglioni qua, qua c'è un bel cuore di Deira. Qua dicono... Eh, è ruba ovviamente il rosso di Cale. Come facciamo a fotoglio? Beh, è semplice. Se avete premuto questo, per portarlo in giro. Tanatatanatatan. Eh, via via via. Eh, via di merda, fotti, ti butta puttana. Vabbè, comunque, la portate nella stanza accanto, ovunque, comunque. E lo rubate. Tranquilli che non vi sgama. Guardate, eh. Lasciamo, ci abbassiamo, contro se non sbaglio. Oh, 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 sono visto io. Lì, c'è voi, fai dai coglioni. Tazzo qua. Eh? Ma non ce li so... Ah, ma c'è quella tizza lì? Che mi ha fatto prender cagotto. Ok, qua siamo presi. Buon, l'abbiamo preso. Nessuno vi dice niente. Questo qua, se non c'è, se non è, ero proprio... Se non mi sbaglio, sì, già non soltanto una volta. O comunque, dopo tanto. Per cui, non contate su fare tante volte questo tour. Perché, soltanto quello dell'accademia si... Cioè, funziona tante volte. Mentre il terzo modo, che è il modo, praticamente, che vi fa più... Che vi fa prendere più tanto... Più tanti cuori. È questo. Ora, L. Andare a cercare gli artefatti da edici. O com'è che si chiamano. Che, praticamente, la maggior parte di questi vi porta è ad uccidere dei... Di solito tre o quattro cose lì di Daeda. Tipo, i cosi lì che evochi di Daeda. Non so. Comunque, li uccidete e vi daranno un cuore. Uno, per esempio, è subito... È qua. A nord di Winter... No. Sud di Winterhold. È qua sopra. Dov'è, 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 dov'è? Eccolo. Qua, su di qui, questa strada. E qua si chiama Santuario di Azzura. E, per esempio, lì ce n'è uno. Oppure, quando siete a livello 20, vi darà un messaggio e vi darà un museo di Downstar. E dove c'è Downstar... C'è un tizio che vi dice di prendere dei pezzi di qualcosa, o di un artiglio, tipo una vogliata del genere. E poi vi porto in una caverna di... Dove sono dentro quattro tizi. Vabbè, sono vari modi. Ovviamente, questi qua sono quelli più comuni e più facili per prendere un cuore. Boh, niente. Qua ho finito il video. Spero che vi sia piaciuto. Se vi è stato utile, mettete un bel mi piace. Se non vi è stato utile, mettete lo stesso. Iscrivetevi. Niente, alla prossima. Ciao, ciao.